Ogni cavaliere ha un evento o una condizione nella Terra ad esso associato. Tali eventi e condizioni sono un buon posto per iniziare i nostri sforzi per identificarli. Gli eventi hanno avuto luogo? Si sono verificate le condizioni o si verificano ora? Se vediamo l'evento o la condizione, vediamo qualcosa ad esso associato che si adatta alla descrizione del cavaliere. Il primo cavaliere Vidi, ed ecco un cavallo bianco, e colui che è seduto su di esso ha un arco, e gli fu data una corona, ed egli uscì superamento e per superare. Apocalisse capitolo 6, verso 2 Il primo cavaliere uscì superamento e per superare. La parola greca tradotta superamento è nikao. È la stessa parola tradotta, superamento, in ciascuna delle sette lettere alle assemblee. Apocalisse capitolo 2, versi 7, 11, 17 e 26, e 3, versi 5, 12 e 21. Le parole greche tradotte superare sono inanichesei e significano che potrebbe superare. Questo potrebbe essere inteso come, non che potesse realizzare il suo intento di superare, o non che avrebbe potuto superare per compiere la missione che gli era stata assegnata. Si è verificato questo evento? È stato ci quel che che va in avanti superamento con l'intenzione di superare? Sì, troppo. È stato ci quel che che fa in avanti il superamento chi è stato assegnato la missione di vincere? Sì, ma non molti. Ad Adamo fu assegnata la missione di... Sottomettere. Dio li benedisse e Dio disse loro. Sii fecondo, moltiplica, riempi la terra e sottomettila, e governa sui pesci del mare e sui uccelli dei cieli e su ogni cosa vivente che si insinua la terra. Genesi capitolo 1, verso 28. Gesù ha superato. Colui che sta superando lo darò a sedersi con me sul mio trono, siccome anche ho superato e proprio mi sono seduto con il mio padre nel suo trono. Apocalisse capitolo 3, verso 21. Gesù promette una benedizione a tutti coloro che superare. A colui che sta superando, io gli darò da mangiare dell'albero della vita che è in mezzo al paradiso di Dio. Apocalisse capitolo 2, verso 7. Colui che sta superando, non può essere ferito dalla seconda morte. Apocalisse capitolo 2, verso 11. A colui che sta superando, io gli darò da mangiare dalla manna nascosta e gli darò una pietra bianca, e sulla pietra un nuovo nome scritto, che nessuno conosceva se non colui che la riceve. Apocalisse capitolo 2, verso 17. A colui che sta superando e mantiene fino alla fine le mie opere, io gli darò autorità sulle nazioni, ed egli le governerà con una verga di ferro, come i vasi del vasaio saranno spezzati, come anch'io ho ricevuto da mio padre, e gli darò la stella del mattino. Apocalisse capitolo 2, versi 26 a 28. A colui che sta superando, questo, sarà rivestito di vesti bianche, e non cancellerò il suo nome dal rotolo della vita, e confesserò il suo nome davanti a mio padre e davanti ai suoi messaggeri. Apocalisse capitolo 3, verso 5. Colui che sta superando, io lo farò una colonna nel santuario del mio Dio, e non uscirà mai più, e scriverò su di lui il nome del mio Dio, e il nome della città del mio Dio, la nuova Gerusalemme, che scende dal cielo dal mio Dio, anche il mio nuovo nome. Apocalisse capitolo 3, verso 12. Colui che sta superando, lo darò a sedersi con me sul mio trono, siccome anche ho superato e proprio mi sono seduto con il mio padre nel suo trono. Apocalisse capitolo 3, verso 21. Ad Adamo, ai credenti e a Gesù, viene assegnata la missione da superare. Dal momento che sono tutti rappresentanti dell'uomo, l'uomo si adatta anche al primo cavaliere. Il colore simbolico bianco, ci aiuta a identificare meglio il cavaliere. Il bianco è la luce, in cui non c'è oscurità. Nella Bibbia è associato con rettitudine, santità e purezza. Mi voltai per vedere la voce che parlava con me e... Girato, vidi sette candelabri d'oro, e in mezzo ai sette candelabri, cuno, simile a un figlio dell'uomo, vestito fino ai piedi e si gira intorno al petto con una cintura. Lui, Gesù, fu trasfigurato davanti a loro, e il suo viso splendeva come il sole, e i suoi vestiti divennero bianchi come la luce. Matteo capitolo 17, verso 2 Le sue vesti divennero estremamente bianche, come nessun lavandaio sulla terra è in grado di imbiancare. Marco capitolo 9, verso 3 Ed ecco, c'è stato un grande terremoto, poiché un angelo del Signore, disceso dal cielo e venuto, rotolò via la pietra e vi si sedette sopra. E il suo aspetto era come un fulmine, e il suo abbigliamento bianco come la neve. Matteo capitolo 28, versi 2 e 3 Alcune persone a sardi non hanno sporcato i loro abiti, e cammineranno con me in bianco, perché sono degni. Quello che supererà così sarà vestito con abiti bianchi. Apocalisse capitolo 3, versi 4 e 5 Ti consiglio di acquistare da me l'oro che è stato raffinato dal fuoco, in modo da poter essere ricco, e abiti bianchi in modo da poter essere vestito, e la vergogna della tua nudità potrebbe non essere manifestata. Apocalisse capitolo 3, verso 18 Intorno al trono c'erano ventiquattro troni, e sui troni vidi ventiquattro anziani seduti, vestiti di abiti bianchi e corone d'oro sulla testa. Apocalisse capitolo 4, verso 4 Vidi che il cielo era stato aperto, ed ecco un cavallo bianco, e colui che è seduto su di esso è chiamato fedele e vero, e nella giustizia giudica e fa la guerra. E gli eserciti in cielo lo stavano seguendo su cavalli bianchi, vestito di lino fine bianco e puro. Apocalisse capitolo 9, versi 11 e 14 Poi vidi un grande trono bianco, e lui seduto su di esso. Apocalisse capitolo 20, verso 11 Ho visto come venivano messi i troni, e l'antico si è seduto per giudicare. I suoi vestiti erano bianchi come la neve, i suoi capelli come la lana più pura. Daniele capitolo 7, verso 9 Adamo era retto e puro quando fu creato. Gesù è retto e puro. Il colore simbolico bianco si adatta a loro. È difficile adattare la purezza del colore simbolico bianco a qualsiasi altra possibilità. La corona simbolica ci aiuta a identificare meglio il cavaliere. La parola greca tradotta al corona è Stephanos. È usato per la corona di spine messa su Gesù. Matteo capitolo 27, verso 29 La donna nella visione di Apocalisse, capitolo 12, indossa una corona di Stephanos. Le locuste in Apocalisse, capitolo 9, verso 7, indossavano qualcosa che sembrava corone di Stephanos. La maggior parte dell'uso della corona Stephanos nel Nuovo Testamento descrive una corona data alla fine dei tempi o alla fine della vita temporale a coloro che vincono. Apocalisse, capitolo 2, verso 10, corrisponde a questo in cui Gesù dice Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. Questo uso si adatta certamente a Gesù e ai fedeli credenti. Non si adatta ad Adam. Nei capitolo 2, versi 6 a 8, il libro di Ebrei si riferisce alla corona di Stephanos data all'uomo. Cos'è l'uomo? Che tu sei consapevole di lui, o il figlio dell'uomo, che tieni a lui? Lo hai reso un po' più basso degli angeli, lo hai incoronato di gloria e onore, hai sottomesso tutte le cose sotto i suoi piedi. Ebrei, capitolo 2, versi 6 a 8 La parola greca tradotta l'incoronata è estephanosas e deriva da Stephanos. Questo uso si adatta specificamente all'uomo. Il fatto che al primo cavaliere sia data la corona prima del superamento è coerente con lui che viene incoronato e tutte le cose messe sotto i suoi piedi. Il primo cavaliere è l'uomo. L'evento associato al primo cavaliere superamento, con una missione assegnata da superare, il colore bianco e la corona si adattano all'uomo come primo cavaliere.